La community di Scratch sarà una community dedicata ai bambini, ma esiste una linea o regola stupida e idiota contro qualsiasi cosa spaventosa. Cioè quella di bandire tutti i contenuti a tema dell'orrore eccetera. Per esempio, non ci può fare un videogioco simile a Five Nights at Freddy's anche senza sangue, e si può essere segnalati perciò. Inoltre Scratch pare non accetterebbe neanche nessun acquisto. Ma Scratch può decidere tante idiozie sulla loro piattaforma.